Se gli altri giudici vogliono aggiungere qualcosa, siamo a disposizione per ascoltare. Il fenomeno che stiamo in questo momento vivendo, cioè della gestione dei processi di mole, è incredibile perché un solo processo è composto da centinaia di volumi e riempie intere stanze. È diventato oltre indispensabile, oltre l'uso di attrezzature più moderne che non le nostre semplici rubrici o i nostri appunti. Questo computer è finalmente arrivato, ma purtroppo non sarà operativo se non fra qualche tempo, perché sembra che i problemi di installazione siano estremamente gravi. Non capisco perché, perché non riesco a saperlo, so che è arrivato, è stato messo in un camerino e stiamo aspettando. È un computer della One quelli che deve servire per la gestione soprattutto in questo momento di questo enorme processo che noi in questo momento stiamo curando. Non è solo per l'ufficio, non per l'ufficio, poi potrà funzionare. È un personale compiuto. Beh, è qualcosa di più, sì. È che comunque è diventato indispensabile la gestione perché la mole dei dati che sono contenuti anche in un solo processo, questo processo che attualmente impegna ben quattro magistrati, è tale che non è più possibile continuare a utilizzare i sistemi tradizionali delle rubrichette artigianali. E inoltre è diventato assolutamente indispensabile l'ausilio del personale ausiliare, cioè segretari e dattilografi per i quali la situazione è estremamente carente, soprattutto perché questi, per ragioni legislative o governative, non so, questi signori non fanno straordinario, lo fanno in modo estremamente ridotto, cosicché il giudice che in questo processo noi siamo costretti a lavorare 16-18 ore al giorno e per buona parte della giornata siamo soli con noi stessi, con tutto l'aggravio. Se mi posso intromettere un istante, siccome il computer è già una realizzazione in altri uffici giudiziari, ad esempio è stato già realizzato a Savona e a Napoli è in corso di realizzazione, da chi vengono sollevate queste difficoltà? No, non vengono sollevate queste difficoltà, è qualcosa che procede in modo estremamente lento, l'ha seguito di più il collega Falcone, è stato di fatto che è arrivato, da un mese ancora non sono venuti a collaudarcelo, non so se dipende dalla casa che l'ho venduto, dipende da altre ragioni, è stato di fatto che ancora noi ci era stato detto che dovevamo iniziare a marzo a utilizzarlo, a caricarlo e invece siamo già a maggio in orciato. E con riferimento al personale ausiliario volevo accedere che non si tratta soltanto dei dattilografi e dei segretari, cioè dai quali noi dovremmo poter aver garantita la presenza per tutto l'arco della giornata e non soltanto per la mattinata perché non lavoriamo soltanto di mattina. E lo stesso vale per gli autisti giudiziari perché buona parte di noi il pomeriggio, nonostante la mattina con strombazzamento di sirene viene accompagnato in ufficio dalle scorte, dalle macchine blindate, il pomeriggio non lo può fare perché macchie blindate ce n'è una soltanto che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi, così che io sistematicamente vado in ufficio con la mia macchina e esco fuori alle 9, alle 10 di sera e me ne torno a casa. La libertà magari la riacquisto utilizzando la mia macchina, però non vedo che senso abbia perda la libertà di mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera.